un momento mi sono sentito mettere qualcosa sul volto e sono stato diciamo drogato mi sono addormentato e mi sono risvegliato poi in una stanza con due persone incappucciate e armate un'altra parte un'altra parte un'altra parte un'altra parte un'altra parte una parte un'altra parte un'altra parte ma un'altra parte delle persone